E adesso cambiamo argomento, ognuno faccia il proprio dovere. Con questo tema, dato al convegno, l'Istituto Pitre Manzoni di Castellammare del Golfo ha concluso l'annuale progetto scolastico dedicato alla legalità. Ospite d'eccezione, Fiammetta Borsellino, figlia dell'indimenticato giudice Borsellino. In questa prima tranche di interviste, il primo cittadino, Nicola Rizzo, e la dirigente Maria Grazia Sabella. È una giornata importante per tutta Castellammare. Fiammetta Borsellino rappresenta una storia, rappresenta un papà eroe, ma rappresenta anche una vicenda dai lati, devo dire, abbastanza variegati. Speriamo di raccogliere le sue testimonianze. In un momento in cui lo Stato deve far emergere la sua forza, e questo lo dice una persona come me, che in questo momento ha un ruolo istituzionale, che quindi deve credere necessariamente alle istituzioni, uno Stato deve dare prova di forza, deve dare prova di correttezza. Ecco, dietro la vicenda di Paolo Borsellino, probabilmente, ma anche quella di Giovanni Falcone, probabilmente c'è qualche lato oscuro. Le istituzioni hanno bisogno, mentre di avere dei riferimenti che siano assolutamente unici e inequivocabili. Purtroppo la vicenda di Paolo Borsellino e di Falcone qualche ombra obiettivamente la getta. Io mi auguro che tutte le testimonianze che la signora Borsellino fa in questo momento, la battaglia che sta facendo, ridia veramente fiducia e porti ad avere veramente fiducia nello Stato stesso per quello che fa. La presenza oggi di Fiammetta Borsellino a Castellammare assume un'altra valenza particolare. Castellammare non ha dato, diciamo, negli ultimi tempi buoni esempi di legalità. Certamente, devo dire che ci sono state delle vicende, perché purtroppo Castellammare è come se avesse una maledizione sopra. Tutte le volte che si riparte, tutte le volte che si ricomincia, succede sempre qualche cosa che la rigetta e non venta nel buio. Vero è che negli ultimi tempi si sono verificate delle situazioni che speriamo essere isolate. Una, che è quella che riguarda l'attuale caposettore, che è stato raggiunto da un avviso di garanzia per fatti che potrebbero anche rivelarsi gravi. Noi abbiamo attivato tutte le procedure necessarie, ci sono delle indagini interne, ispettive, pilotate e guidate dal segretario generale. Siamo stati anche tristemente coinvolti nell'arresto del caposettore, del terzo settore. Auguriamoci semplicemente che prima di tutto nel loro interesse, ma nell'interesse di tutta la cittadinanza, possano dimostrare la loro onestà. Castellammare non è fatta solo di questi episodi tristi. La presenza oggi di Fiammetta Borsellino è un segnale che invece Castellammare ha bisogno di legalità, ha bisogno di forza, ha bisogno di fiducia. Che si occupi anche di denunziare le cose che non vanno e se ce ne sono è giusto che si denunzino una volta e per tutte. La legalità è importantissima e si lavora ogni giorno per la legalità. Oggi abbiamo un ospite di eccezione come la dottoressa Fiammetta Borsellino. I bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si rendono conto quotidianamente che la legalità si comincia dalle piccole fino ad arrivare alle cose più importanti, le cose magari che loro ancora non conoscono ma che avranno modo di verificare. La mafia che se ognuno facesse il proprio dovere, la sua piccola parte, questo male oscuro della Sicilia sarà sicuramente stirpato. Si parla di diritto ma si parla anche di dovere. I doveri di alunno, dovere di studente, dovere di figlio, dovere di futuro cittadino. I docenti per la loro parte, gli alunni, le famiglie sono tutti invitati oggi proprio a fare la propria parte.